Immagina di incontrare te stesso a 16 anni. Cosa penserebbe di te? Sono cambiato così tanto. Del tuo lavoro? Delle tue abitudini? Voi del futuro siete ossessionati da queste cose? Di quello che mangi? E della tua auto? Centura? Prendilo fiero di te. Nuova CLA. Scrivi tu le regole. Un ciao a tutti voi da Rosi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto. Mi fa davvero un enorme piacere ospitare Crema Diesel concessionaria Mercedes. Accanto a me il direttore marketing Fabio Manzoni che vi spiegherà dove ci troviamo, come arrivare e che cosa vi offre Crema Diesel. Ciao Fabio. Buonasera Rosi, benvenuta. Grazie, grazie di essere qui con noi. Benvenuti anche a tutti i telespettatori che per la prima volta, dopo tanti anni, tornano all'interno dei nostri impianti. Siamo anche un po' emozionati perché sai, dopo tanti anni diciamo, ci tenevamo a tornare un po' anche nelle case degli italiani, ecco, la sera. E quindi raccontiamo un po', diciamo, come ci siamo evoluti in questi ultimi anni. Ricordo Crema Diesel è concessionaria ufficiale Mercedes-Benz Smart dal 1980. L'anno prossimo festeggeremo 40 anni, quindi ci stiamo preparando per il grande evento. Bellissimo. E quindi, come dicevo, siamo concessionaria ufficiale per Mercedes-Benz Smart nelle province di Cremona e di Lodi. Siamo presenti con tre sedi. Questa è la sede storica di Bagnolo Cremasco, inaugurata nel 1995, dove sostanzialmente siamo a due passi da Milano. Quindi è una sede molto comoda da raggiungere, con la paulese che corre qui, proprio, c'è anche a noi. Poi abbiamo la sede di Lodi, che è vicino al casello autostradale di Pieve Fissiraga, a due passi da Mileniano, quindi per i clienti di Milano è veramente comodo raggiungerci. E poi abbiamo la sede di Cremona, che è appunto la nostra sede, diciamo, più nuova, più maestosa, nel nostro capoluogo di provincia, quindi nella nostra fantastica Cremona. In tutte e tre le sedi, ovviamente, offriamo diversi servizi, fra cui la vendita di Mercedes-Benz, di Smart, di veicoli commerciali e di veicoli industriali, quindi i track. I track. Abbiamo, oltretutto, anche il servizio di officina, con l'officina vetture, l'officina van, l'officina track e il servizio di carrozzeria. Quindi abbiamo tutto il bouquet, diciamo, disponibile per i nostri clienti, il bouquet di servizi, appunto. Certo, diciamo che quando uno acquista una vettura o un veicolo commerciale, ancora di più, deve essere seguito nel post vendita e tutto questo si trova in crema di Mercedes. È il punto focale, perché ovviamente non conta solo vendere, ma poi quello che conta sono i servizi, conta i servizi e poi la consulenza che offriamo poi ai nostri clienti. Soprattutto per la vendita ci tengo a dire che, insomma, per noi è importante anche il ritiro, la valutazione degli usati. Infatti poi vedremo il reparto usato con molte delle nostre offerte. Per noi, sostanzialmente, ogni vettura è la vettura. Quindi ci teniamo a fare delle valutazioni personalizzate a tutti i nostri clienti, e a tutti i prospect, tutte le persone che cercano di approcciare a crema di Mercedes. Quindi vi invito anche a sfidarci per le valutazioni delle vostre auto. Insomma, c'è sempre un po' di bagarre fra le concessionarie. Bene, è stata lanciata una sfida. Questa è una challenge che voglio lanciare al territorio. Ok, perfetto. E nella sfida sicuramente vincerete voi. Perciò venite qui, naturalmente, a sentire, ad ascoltare, a vedere tutto quello che vi può offrire crema di diesel e anche a sfidare ad avere appunto un prezzo straordinario, ma soprattutto un trattamento straordinario. Questo mi sembra che sia molto importante per voi. Poi adesso riconosceremo anche dei colleghi, perché per quanto riguarda il reparto nuovo ci sarà Stefano, nostro prodotto expert, che ci racconterà le offerte per le vetture nuove. Poi avremo i colleghi del reparto usato Smart, i chilometri zero, che quindi ci racconteranno qualche offerta, diciamo, last minute per questa trasmissione, per questo primo evento con te, qui nelle nostre concessionarie. E poi avremo anche il nostro direttore commerciale dei veicoli, appunto, dei van commerciali, che ci racconterà appunto qualcosa anche per la loro business unit. Perfetto. E noi allora ci ritroveremo in chiusura di trasmissione, Fabio. Lasciamo la parola a loro. Grazie, grazie. A dopo. Un benvenuto anche da parte mia alla concessionaria Crema Diesel. Io sono Stefano, il prodotto expert della sede di Bagnolo Cremasco. Oggi vi presento questa splendida All Terrain, una vettura adatta per tutte le situazioni, viaggio, ma anche per la vostra voglia di avventura. La presentiamo ad un eccezionale prezzo bonus. Partiamo da 80.000 euro e proponiamo la vettura a 60.000 euro. Si tratta di un modello super accessoriato, con una dotazione di serie veramente ottima. Abbiamo head-up display, assistenza alla guida, questo splendido colore blu canvasite, il tetto panorama e dei magnifici interni in pelle beige. Ovviamente abbiamo la disponibilità anche di farvela provare, vi aspettiamo quando volete, la proverete insieme a me per capire tutte le peculiarità. Quindi approfittate, vi aspettiamo qui a Bagnolo Cremasco, via Leonardo da Vinci 55. Cercatemi in salone, sono Stefano. E proseguiamo la nostra presentazione con questa meravigliosa berlina, classe C 220, 4 Matic Sport Plus. Anche questa è una vettura molto accessoriata, perfetta per il vostro business o per i vostri viaggi in famiglia. La proponiamo con un colore blu canvasite, ad un eccezionale prezzo bonus per i nostri clienti. Da un listino di 56.000 euro, la portate a casa con 48.000 euro. Veramente un'offerta da non perdere. Anche qui abbiamo una dotazione con navigatore, sensore di parcheggio, telecamera posteriore. Vi aspettiamo a provarla nella sede di Bagnolo Cremasco. Cari amici, vi ricordiamo che in tutte le sedi di Crema Diesel, Cremona, Bagnolo Cremasco e Lodi, abbiamo un ampio parco di vetture test drive di quasi tutta la gamma disponibili. Vi aspettiamo a provarle e a scoprire tutte le offerte sul resto della gamma. Un caro saluto da Stefano. Buonasera a tutti, sono Massimo Andrea, consulente di vendite e vetture per il marchio Mercedes Smart di Crema Diesel di Bagnolo Cremasco. Mi occupo principalmente della vendita di Mercedes Smart Km Zero, auto d'occasioni e vetture aziendali. Partiamo con questa bellissima C63 AMG che abbiamo disponibile. Trattasi di una vettura unica nel suo genere. È un settembre 2017 con l'attivo 22.000 km percorsi, tutti ufficiali Mercedes. La proponiamo a 51,9 più il passaggio di proprietà. La vettura è dotata anche di doppio treno, gomme e cerchi invernali. In modo tale da essere perfetti per tutte le stagioni. Proseguiamo pure con la nostra disponibilità di vetture. Ci soffermiamo su classe C dove abbiamo diversi modelli in base alle esigenze del cliente. Abbiamo delle bellissime coupé, diverse berline, fino a finire sul cabrio per gli amanti appunto del genere. I prezzi imbattibili di queste vetture li potete comunque trovare sul nostro sito web che è www.cremadiesel.it. Abbiamo disponibilità anche di questa bellissima classe cabrio. Trattasi di una 220 Premium Plus dell'aprile 2019 con l'attivo 7.000 km. Vettura molto bella nel suo genere. Il nostro parco d'auto usate prevede anche questa bellissima CLS che trattasi di una vettura d'eccellenza. È un 350 Premium, motore 3.000, marzo 2018 con 11.000 km all'attivo. Immancabile anche nel nostro parco d'auto questa bellissima classe X 250 in versione power, vettura molto ricca di dotazioni e accessori. Abbiamo le pedane, versione full black con telecamera 360 gradi. Passiamo poi al GLE, disponibile come chilometro zero, versione Premium 3.50, quattro ruote motrici. Abbiamo anche diverse disponibilità di GLC, coupé e SUV. Questa inquadrata trattasi di un SUV. Colore argento ma abbiamo disponibilità anche di vari colori. Per gli amanti del genere del crossover, crema diesel ha a disposizione anche diverse GLA, disponibile in varie colorazioni, varie motorizzazioni, quali benzina e diesel e opportunità di scegliere il cambio automatico o manuale. Come ad esempio questa bellissima GLA 200 Diesel Sport proposta in versione col cambio automatico. Fanale full LED, vettura molto ricca di accessori. Passando poi a questa bellissima GLA 220 Premium con verniciatura grigio opaco Magno Designo, proposta in versione Premium con l'interno in pelle marroni. Terminando con questa unica GLA 45 AMG, settembre 2016 con all'attivo 60.000 km, prezzo proposto 39,9 più il passaggio di proprietà. La nostra disponibilità arriva anche su classe A, la più piccola in casa Mercedes, proposta in modello nuovo. Trattasi di una 180, diesel, sport, cambio automatico. Crema diesel propone anche un vasto assortimento di smart, nuove, chilometri zero e aziendali. La panoramica si sofferma su questa qua in particolare, dove abbiamo un ecobonus fino a 6.000 euro con sconto a cliente relative alle versioni EQ. Disponibilità anche di modelli a benzina invade colorazioni e motorizzazioni. 70 cavalli aspirati o 90 cavalli turbo. Terminiamo questo tour di vetture usate e aziendali chilometro zero. Vi invito a visionare il nostro sito web che è cremadiesel.it. Adesso passo la parola al nostro responsabile usato. Buonasera a tutti, mi presento. Io sono Andrea Cuzzoni, responsabile dell'usato. Qui siamo nella sede sempre di Bagnolo Cremasco. Vi volevo presentare come ultima vettura di quelle selezionate questa bellissima C63 Enghe Station Wagon. Vettura con una colorazione particolare in grigio opaco. Una vettura del 2018, unico proprietario, che abbiamo in vendita a 68.900 euro. Vi volevo inoltre rinoltrare l'invito a venire a trovarci nella nostra sede, dove ci sono altre vetture che potrebbero essere di vostro interesse. Grazie. Buonasera a tutti, sono Tiziano Bartolotta, di Cremadiesel, responsabile van. Volevo invitarvi a visitare la nostra concessionaria Mercedes, in quanto gestiamo anche i veicoli van e track da più di 30 anni, sia come vendita che come assistenza. Abbiamo delle ottimissime occasioni sui veicoli in casa stock. Approfittate soprattutto ancora dell'eco-incentivo del 130%. Vi aspetto perché avrete veramente delle sorprese eccezionali. Abbiamo dei prezzi veramente inimmaginabili. Veniteci a trovare e soprattutto venite a provare i nostri veicoli. Quello su cui insistiamo molto è il test drive. Provate i nostri veicoli e soprattutto scoprite veramente le grandi offerte che abbiamo per voi. Fabio, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Abbiamo visto veramente tantissimo. Volevamo farvi vedere anche questo ambiente che è veramente spettacolare. Grazie, grazie. Spero vi sia piaciuto. Spero che i nostri telespettatori abbiano apprezzato un po' quello che è il mondo crema diesel. Ovviamente un mondo pensato 40 anni fa dal cavalier Paolo Lacchinelli, perché è giusto ricordarlo. E la concessionaria che oggi è guidata dalla nostra general manager, Simona Lacchinelli. Quindi vi aspettiamo. Io rinnovo a tutti i telespettatori il mio invito a venirci a trovare, a sfidarci con l'usato che dicevamo prima, perché è importante. Questa challenge che lanciamo ormai va di moda nei social. Ma questo almeno è una bella challenge. Crema diesel challenge per l'usato e per le chilometri zero e per le macchine bellissime dei nostri clienti. Perfetto. Allora, seguite naturalmente la trasmissione. Andate a scaricare anche l'app L'Auto del Giorno per averla sempre a portata di mano. Seguite anche i social di Crema Diesel. Seguiteci su Facebook, su Instagram. Metteteci il vostro like. Poi rispondiamo sempre in chat il nostro prodotto expert Stefano che avete conosciuto prima. Insomma, è una persona molto dinamica, molto smart. Quindi vi risponde in tre minuti. Perfetto. Grazie mille Fabio. Alla prossima. Grazie Rosy di essere stata qui con noi. Grazie a tutti voi. Grazie. A presto. Grazie, ciao. Nuova CLA. Scrivi tu le regole. Grazie a tutti.